E' ben arrivati a Tokyo e cominciamo quindi la visita di Tokyo con un piccolo grattacielo dedicato esclusivamente al karaoke. A Tokyo, in Giappone in generale, ordinare da mangiare non è un problema perché nei ristoranti c'è sempre comunque l'esposizione dei piatti. L'ordinazione avviene fuori dal ristorante e il piatto si paga così il cuovo sa cosa preparare e adesso si entra e il tuo piatto in pochi istanti sarà pronto. Gocha Gocha! E' un momento di malinconia, ottime paste in plastico. Panoramica dall'uscita della stazione di Shinjuku. Grattacielo Kung Kung, Odakiu, centro commerciale con big camera e sulla destra Uniculo, famoso punto di riferimento di Shinjuku. Finalmente abbiamo trovato il famoso Marco Togni, è venuto fino a Tokyo ma l'abbiamo trovato. E' un piacere di conoscervi e sono contento che mi avete salutato insieme. Ma guarda, piacere nostro!